Salto Costa di Scordia L'interruzione di Mikil Costa Ein Zwischenruf von Mikil Costa Oggi parleremo di speranza Nulla impedirà al sole di sorgere ancora Nemmeno la notte più buia Perché oltre la nera cortina della notte C'è un'alba che ci aspetta Così scriveva Gibran Infatti bisogna sempre avere speranza Passate le grandi feste oramai Possiamo nuovamente concentrarci sul vivere sano Almeno da un punto di vista alimentare Beh, io sono fortunato Ho la possibilità di poter mangiare cibi Non solo sani ma anche buoni E in più ho la fortuna di poter fare Quello che mi piace nella vita Cioè stare insieme a tante persone Così come mi piace la vita d'albergo E vedere come la casa si trasformi Nei vari periodi dell'anno È tutto luce, gioia Natale Colori e fiori fresche a Pasqua È con la natura in estate che entra letteralmente dentro le camere Poi mi piace camminare scalzo anche in albergo Certo, d'estate Perché mentre d'inverno si sta come in un guscio Con il fuoco del caminetto che scoppietta e demana calore Con i centrotavola che cambiano Secondo il gusto e la creatività di Stefan Eh già, il mio mondo è proprio un bel mondo E mi piace annusare i profumi nei vari ambienti E mi faccio gli occhi belli nel vedere i cuochi che danzano intorno ai fornelli E i sommelier che assaggiano il vino In meditazione quasi E mi conquisto un buon cocktail Fatto da Monsieur Antoine E la sera al banco E mentre ascolto la band Che fa musica di qualità Sì, perché qui si fa musica di qualità Sì, sì E mi attrae mangiare cose buone Ecco, a me piace mangiare Pensate un po', conosco una persona Che dice che mangiare è una perdita di tempo E io invece mi nutro Soprattutto per il gusto di assaggiare un cibo buono Uno spec di qualità Ad esempio un pane fatto con il grano arso Una ribollita toscana con l'immancabile cavolo nero No, io non mangio in piedi E a volte capita Quando mi manca il tempo E a chi non capita Salto, pranzo e cena Non mangio Ma il mio fisico non si lamenta Anzi, rende grazie il mio minuto fisico Piuttosto di mangiare male Non mangio Sì, lo so che sono fortunato Sono fortunato E quando sono felice Cerco di farci caso Come titola un bel libro di Kurt Vonnegut Geniale istrione della letteratura americana Uno dei suoi consigli è recita Fate ogni giorno una cosa che vi spaventi Ad esempio cantate Ed ecco che al mattino canto fra me e me Un motivetto tipo Anclerimus di Frank Zappa E la paura svanisce Io non so cantare E la paura svanisce Ma del resto si dice Canta che ti passa, no? Comunque, tornando a noi Mi piace anche una bella bistecca fiorentina Ma solo se so da dove viene Provo insomma di evitare la carne Il motivo è semplice Il corpo umano può benissimo consumarne poco Eppure una parte di umanità Di carne ne mangia anche troppa Sappiate che adesso Sette miliardi di bovini Stanno per essere macellati Con tutto ciò che la faccenda comporta Spesso sono carni troppo lavorate Sono alimenti ultra processati Che subiscono una serie di lavorazioni industriali E questi alimenti sono caratterizzati Da un'elevata presenza di additivi Di conservanti, di coloranti E altri ingredienti artificiali Che possono avere impatti negativi sulla salute Non lo dico io Lo dice la scienza I nitriti contenuti nei wurstel Nel prosciutto cotto Nei salumi Ma sono davvero cancerogeni E andrebbero vietati Quindi la produzione di carne Ha un impatto devastante Sul nostro ecosistema E per tutte le persone In questo mondo Che di carne ne mangiano assai poca Un terzo ne mangia troppa Sinceramente Non riesco a immaginare Che io i media consumi tre mucche all'anno Ma non è mostruoso Una consapevolezza Che mi porta ad accettare Non senza qualche eritrosia Alcune inevitabili verità del tipo I prezzi saliranno I politici avranno delle amanti E noi diventeremo vecchi Ma insomma dai Forse è il tempo di diventare vegetariani Prima di diventare vecchi E di vivere più felici Tutto il trasporto mondiale Inquina la metà Rispetto all'inquinamento Causato dall'allevamento dei bovini Sì nulla di nuovo lo so Ma fa una certa impressione Sapere che l'allevamento intensivo Quota il doppio Rispetto a tutti i trasporti Inclusi aerei e navi E mi fa davvero sorridere La difficoltà che si fa A far comprendere l'importanza Di limitare la carne Ma non parlo della carne Del vicino di casa Di Hubert Mio vicino di casa Bravo Attento contadino Io so come stanno Le sue mucche So gli spazi Che hanno a disposizione Come si alimentano Come vengono trattate Il problema È che potenti lobby Del potere Gestiscono i grandi commerci Come al solito E spesso È una questione di prezzo Eppure non esiste Non esiste Un cibo buon mercato Il cibo allevato Con cura Costa Energia E soldi Il contadino di montagna Ci mette amore E ci mette fatica E i suoi prodotti Non possono essere svenduti Eppure i piccoli produttori Spesso sono stretti In una morsa Devono quindi provare A produrre di più Perché i prodotti Non hanno il valore economico Che dovrebbero avere Lo dico da mille anni Eppure i piccoli prodotti Il nostro latte Dovrebbe essere considerato Un prodotto d'eccellenza E avere perciò Un prezzo giusto Adeguato A livello di qualità Di mucche Che pascolano felici Come poi Sia possibile Che gli yogurt Sottirolesi Con il latte Che viene pagato 55 cent al litro O meno più o meno Da quello che mi risulta E in Trentino Anche meno Come Questi yogurt Si trovino Sui buffet Di mezza Italia No direi Dell'Italia intera Perché li ho trovati Veramente da Osta A Palermo Ma questo Rimane Un mistero Un mistero Per modo di dire Mi arrabbio Quando sento dire Che 10 euro Per una bottiglia di olio Extravergine d'oliva Sono troppi Ma sapete il lavoro Che c'è dietro E poi la gelata E poi la mosca Poi altre infezioni E saltano anni di raccolta L'olio buono Quello che si mette a crudo Aumenta il gusto E perciò deve costare il giusto E' ricco di vitamina E E' antiossidante E' buono E fa bene E' che noi Ci siamo abituati All'idea Che tutto Deve costare poco E se c'è una cosa Che gli americani Hanno capito A parte Trump Il Beota Sono le proprietà Benefiche Dell'olio Extravergine d'oliva Pensate che Sulle confezioni Americane Consigliano 50 mg Di olio Cioè un cucchiaio Al giorno Che dovrebbe ridurre La probabilità Di infarto E noi invece L'olio Da dove lo importiamo? Beh dalla Tunisia Dalla Spagna E' un made in Italy Ma che mondo Ciao Hai mai pensato Alla grande quantità Di lavoro Che si nasconde Dietro di un podcast? Anche tu puoi fare La tua parte Attivando un abbonamento Con un semplice click E pochi euro Potrai ricambiare Concretamente Il nostro impegno Pensaci Bisogna Cambiare dieta E allora Perché Non provare A ridurre la carne E usare Meno olio Ma buono? Le carni Potremmo provare Anche a ridurle Nei nostri alberghi E mi ha fatto ridere E un poco piangere Quando qualche giorno fa Ho visto Che erano riapparsi Gli affettati Nel nostro buffet Delle colazioni Da noi Si usa Il vac day Di venerdì Il giorno senza carne Ed ecco che Ricompare la carne Ah ma solo Carni magre Mi dice il responsabile Perché la carne Ce la chiedono Ed ecco che A disposizione Degli ospiti Mi ritrovo Tacchino Vitello Del maiale Il coscio E lombosgrassato Ma non è così Che riusciremo A educare I nostri ospiti Che devono E possono Essere educati E lo accetteranno Anche Se è per una causa Se è per una causa giusta O il vac day Lo facciamo bene O non lo facciamo E vale anche Per i collaboratori Ovviamente Che hanno a disposizione Immensa Due vac day Settimanali Nei quali Ci sono tantissime Predibattezze E poi ho visto Poco prima Della chiusura Di un'attività Che abbiamo Che nel nostro buffet Delle colazioni C'erano ancora Molte brioche Uova strapazzate Certo Nulla va buttato Ma anche qui È l'educare Ad essere più parsimoniosi Il messaggio Che deve passare Trovo buona L'idea Di usare Dei doggy bag O di chiedere All'ospite Che non ha finito Il cibo E senza vergogna Né per chi Lo offre Né per chi Lo riceve Se gradisce Che le rimanenze Vengano incartate Portare via Gli avanzi Come d'altronde È già uso E costume In moltissimi ristoranti Ci aiuta A capire Quanto sia Prezioso Il cibo E non succede Nulla Se si beve Latte Qualche giorno Dopo la scadenza E il panettone Si può benissimo Mangiare Anche mesi Dopo Natale Limitare Gli sprechi È uno Degli obiettivi Principali Che dovremmo Perseguire Dato che un terzo Del cibo prodotto Nel mondo Viene buttato Siamo in 8 miliardi E produciamo ogni anno Cibo per 12 miliardi Di persone Migliaia di tonnellate In più di cibo Che va buttato E che per produrlo Inquiniamo All'inverosimile E pensare Che ci sono Milioni di persone Mallutrite O che muoiono Di fame Ma anche questa Deve essere Una nostra missione Ridurre E riciclare Per essere Davvero felici Almeno un po' Dai All'inverosimile Maybe I Should take a straw And to me That's alright To me That's alright Bene Ha fatto molto freddo In gennaio E quindi La crisi climatica È finita Invece no Sono solo Fenomeni estremi E i picchi di freddo Non sono null'altro Che una manifestazione Di una crisi climatica Che continua E che perdura E che si aggraverà E questi eventi Brevi e intensi Nessuno la riprova E allora? E allora? Allora Diamoci da fare Almeno proviamo A sprecare un po' di meno Ad essere più attenti A noi Che su questo pianeta Ancora possiamo viverci Ebbene sì Sì Dobbiamo nutrirci Di speranza Piuttosto che Ingurgitare migliaia Di calorie In eccesso E a proposito Di speranza Vi saluto Con un pensiero Schietto Dalle AIP Non so come si pronuncia Una giornalista Albanese Feltrinelli Ha pubblicato Un suo libro Intitolato Libera Diventare grandi Alla fine della storia Che insegna Lea Insegna Teoria politica Alla London School Of Economics E collaboro con il quotidiano Britannico The Guardian Paradossalmente Più il mondo va male Più dobbiamo nutrire Speranza Per continuare a lottare Essere fiduciosi Non significa Garantire Il raggiungimento Di un traguardo Ma salvaguardare Il principio giusto Quello in base Al quale ha senso Un mondo Basato sull'etica Che bel pensiero Vero Un mondo Tutti Un mondo Per continuare a lutter Lutter Tak Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.